Il Tribunale dell'esame ha rigettato il ricorso presentato dal falso cieco al quale la finanza a fine giugno aveva sequestrato beni per circa 200.000 euro, il conto corrente ed anche una villetta a Montoro. Il falso invalido venne scoperto dalle fiamme gialle. L'uomo affetto da cecità assoluta era stato filmato dagli uomini della tenenza di Solofra mentre svolgeva azioni di vita quotidiana che un cieco non potrebbe agevolmente svolgere, a cominciare dalla lettura degli sms sul telefonino oppure comporre i numeri dello stesso. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Avellino aveva disposto il sequestro di contanti e beni. Per la pensione di invalidità e l'accompagnamento l'uomo avrebbe percepito in 13 anni oltre 300.000 euro. L'accusa, negli suoi confronti, è di truffa aggravata. L'uomo e la moglie, al fine di riottenere i beni sequestrati, hanno presentato ricorso alla TAR ma è stato rigettato con contestuale condanna al pagamento delle spese, mentre sono in corso ulteriori indagini per individuare eventuali irresponsabili che hanno agito in concorso con l'uomo, mentre sono state avviate le procedure necessarie a far sospendere il pagamento della pensione.